ciao a tutti sono simone di simon and simon qui con me c'è sempre simona di simon and simon dai saluta simon non saluta ma la sentirete cigolando ecco saluta cigolando e questi sono i tutorial di surviving mouse siamo all'ultimo tutorial in realtà li stiamo registrando tutti insieme perchè ci sto mettendo 5 minuti per farne uno e quindi ciao a popolo multiple doms molto bene oh questa capacità sono sempre bellissime in questo tutorial vedremo come collegare più dom che sono queste pallozze che abbiamo messo a terra queste cupole come se ne collegano di più chi lo sa ecco finalmente vediamo la cosa che vi svolta cioè spendete tutti i soldi che avete per avere questa ricerca qua perchè semplifica tantissimo lo shuttle hub farà dei droni che volano e hanno una un'area da coprire praticamente tutta la mappa quindi non dovete più fare i depositi ogni 3 metri e fare di modo che le cose si overlapino per gestire le risorse questi fanno tutto vedete infatti siamo a mille miliardi di chilometri e la cosa bella è che fanno anche servizio taxi trasportano anche gli omini fantastico è la ricerca definitiva quindi costruiamola e mandiamo avanti veloce cioè in sostanza abbiamo due basi completamente scollegate vedete non c'è niente che le collega infatti questi robot fanno un po' di fatica ad arrivare fin la e arrivano fin qua e tornano indietro e dicono no 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 non ci voglio andare per fortuna abbiamo anche di qua i nostri fedeli robottini che stanno costruendo tutto spiano datemi un attimo di tempo che finiscono di costruire tutto bene ma che belle le basi fatte dagli sviluppatori le mie non sono così belle comunque finito questo tutorial che secondo me dovrà 5 minuti anche lui il prossimo video sarà io che provo a giocare quindi iscrivetevi già adesso cliccate sulla campanellina io vi dico già tutto mettete mi piace fate tutto è da collegare elettricamente quindi facciamo come ci hanno insegnato tiriamo un cavo da qui a lì e l'unica cosa un po' fastidiosa è che usa il carburante che non è proprio facilissimo da generare tipicamente quando lo sbloccate non avete problemi però se fate le rush e comprate le ricerche perchè potete comprare le ricerche può essere che non avete ancora la produzione di carburante ok dobbiamo fare un dom una cupola per i minatori quindi ci vuole un rare metal extractor un estratore di metalli rari ecco qua lo facciamo esattamente dove ci dicono e ci mettiamo ovviamente l'elettricità e penso che bisogna fare anche bisogna bisogna bisognebbi il dumping site che non me lo fa fare perchè i minerali le stazioni di minerali genera sempre dei triti come prodotto di skyrocket siamo a buon punto poi dovremmo fare delle case immagino qua dentro non sembra che se fate una cupola solo con i divertimenti e una staccata con le case non sembra che la gente riesca a capire che può andare a divertirsi nell'altra cupola o ha tutto nella sua cupola o è collegata o è collegata proprio con i passaggi o è collegata proprio con i passaggi e non soltanto con i deroni quindi facciamo la casezza facciamo il barozzo così si possono andare a ubriacare facciamo quello che produce il cibo no quello che distribuisce il cibo e facciamo quello che produce il cibo e se lo voglio fare non me lo fa fare si ribella si ribella non me lo fa fare e non me lo fa non c'è comunque vedete col passaggio potete collegare proprio due due dome e diventano come se fossero una unica in quel caso gli omini vanno a divertirsi l'una o nell'altra se ci sono solo gli shuttle se i mani no non ho capito perché onestamente intanto abbiamo due coloni che hanno buh non lo so ce li fanno vedere ehi guarda questo è sexy e genio e questo è santo ed è messo in forma santo Stefano ecco qua i nostri robottini che portano gli omini dentro che bello troppo bello vi svolta la vita avere quella tecnologia lì ah possiamo far sì che in un dome in una di queste cupole arrivi gente che diciamo noi quindi ci interessano i geologi e non vogliamo gli scienziati ci stanno antipatici ok quindi vogliamo invece in questa vogliamo gli scienziati e non vogliamo i geologi così se ne vanno di là cioè è proprio vietata agli omer quello che vi dicevo non possono allora possono andare da un dome all'altro ma non lo visitano spontaneamente a meno che non sono collegati dal tubo quindi bisogna fare un altro dom qua e poi bisognava fare il tubo non capisci un tubo ecco qua yeee tutti i droni che vanno e costruiscono che belli che sono e mi porto avanti e gli attacco già i tubi e anche l'elettricità tanto va fatto non so se vedete ma in genere mettono i tubi e i cavi uno sotto l'altro uno sopra l'altro anzi qua non ho potuto fare perchè ci sono dei depositi però normalmente è quello che faccio anche io così ottimizziamo lo spazio ed è anche più bello da vedersi onestamente bene abbiamo solo travasato il cemento e abbiamo fatto intanto questi due qua cosa stanno facendo questo sta riposando e questo sta riposando stanno riposando insieme sembra di sì eh più o meno è uscita di casa sembra molto dei sims seguiamoli e vediamo cosa fanno possiamo anche assegnarli noi a mano a un edificio tu lavorerai lì ma il mio sogno è ho detto che lavorerai lì va bene se siamo dei dittatori di spotici una cosa che ad esempio in tropico dove eravamo dei dittatori di spotici non potevamo fare assegnare le persone agli edifici questo è il più di spotico il più dittatore di tropico rendetevi conto manca poco 3 2 1 dai manca solo uno vai robottino hai vinto te non posso dare il nome a robottino no questa è una gravissima pecca non posso dare i nomi ai robottini quindi questa sarà quindi questa sarà servirà per il cibo sta questa cucina ma penso che possano andare da una all'altra senza bisogno che gli faccio il tubo semplicemente perché sono vicine e quindi escono e si fanno la passeggiatina quindi non ho capito il tubo cosa aiuta ah ok no lo abbiamo fatto il passaggio lo avevo capito bene facciamo il passaggio passaggio nel nord ovest no come arriva la nostra flotta di robottini dobbiamo attaccare il nemico adesso anche questo richiede cemento il cemento è la base della nella costruzione sul pianeta rosso e anche questa costruzione l'abbiamo fatta dai su mettetevi tutti insieme ci stanno mettendo tantissimo oh più veloci ecco sono arrivati a rinforote sono tantissimi adesso buon lavoro ok fatto adesso la cosa buona è che distribuisce anche l'energia l'acqua e l'ossigeno quindi i collegamenti che ho fatto io sono inutili però vabbè sempre meglio avere qualcosa di backup e i nostri coloni potranno andare l'uno all'altro ogni volta che ci hanno voglia quindi dobbiamo allora quello che sta dicendo alcuni edifici hanno dei miglioramenti da poter sbloccare ovviamente consumano più energia più risole rosse per farlo dobbiamo andare nel tectery ci fa vedere ad esempio l'estrattore d'acqua potenziato ok io mi fermo un altro deposito di vediamo se me lo fa fare non me lo fa fare mannaggia volevo portarmi già qua il cemento così ottimizzavamo e invece lo si può sto usando la funzionalità di outsource così ci da più punti e facciamo prima le ricerche mi sa che ci metterà lo stesso tempo in questo caso vabbè le ricerche future se ne dobbiamo fare altre sono già sbloccate in pratica abbiamo un sacco di energia intanto eh ah e poi ci dice a che punto siamo nelle ricerche siamo all'80% 89 92 e anche quale istruttore ci danno in punti ricerca lo potenziamo con quest'icona qua adesso abbiamo cliccato sul bottone e i miei droni non devono comunque potenziare che è quello che stanno facendo possiamo abilitarlo e disabilitarlo l'upgrade con lo stesso bottone con cui l'abbiamo costruito abbiamo finito non c'è il centro di comando ah bello possiamo vedere ad esempio i coloni bello ci fa vedere come stanno di salute se sono incazzati se stanno impazzendo se sono vegani grazie 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 grazie